signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale continuiamo anche il 2021 a parlare dei culture organizzazioni e di come gestire la società all'interno del vostro mondo di gioco vi ricordate quando ho detto che abbiamo finito per dicembre ecco mentivo e questa settimana per parlare di war building andremo a visitare un posto speciale il pianeta dei cappelli la cosa più importante da ricordare è che sul pianeta dei cappelli tutti indossano un cappello una volta un gruppo di avventurieri andò in visita al pianeta dei cappelli e tutti gli abitanti rimasero impressionati del fatto che gli avventurieri non indossassero il cappello fu quindi loro spiegato quanto fosse importante per gli abitanti del pianeta dei cappelli indossare un cappello e successe anche qualcosa di molto importante legato ai cappelli capita l'importanza dei cappelli gli avventurieri se ne andarono dal pianeta con una migliore comprensione di che cosa volesse dire indossare un cappello se il pianeta dei cappelli non vi ha particolarmente entusiasmato possede sostituire cappello con qualsiasi altra cosa funzionerà lo stesso il pianeta dei cappelli è un troppo molto comune e il nome che viene dato a un particolare gruppo società organizzazione quando è definita da una singola caratteristica molto esagerata che è comune a tutti gli appartenenti a quel gruppo quale sia questa caratteristica non è importante la cosa rilevante per essere un pianeta dei cappelli e che questa caratteristica che è chiamata proprio il cappello sia l'unico elemento rilevante che viene attribuito a quel gruppo all'interno della narrazione ovviamente quale sia la caratteristica del cappello dipende in larga parte dal tipo e dalle dimensioni dell'organizzazione di cui stiamo parlando in un'organizzazione limitata il cappello potrebbe essere semplicemente una gimmick o un qualche tipo di elemento caratterizzante la gilda locale di ladri della città parla e si comporta come la mafia americana degli anni 30 magari la ciurma dell'astronave dei pirati si atteggia effettivamente come pirati seicenteschi con tanto di cappelli a tricorno e pappagalli sulle spalle per un'organizzazione più vasta potrebbe essere qualcosa che ne accomuna i membri il genere supereroistico è pieno di super cattivi accompagnati da bande di minion vestiti a tema per un'organizzazione ancora più grande come una nazione uno stato nazionale potrebbe essere qualche tipo di tendenza culturale ideologia comune o anche semplicemente uno stereotipo a cui tutti i membri di quello stato vengono associati perché però un gruppo possa essere definito un pianeta dei cappelli non è rilevante che abbiano una caratterizzazione comune anche perché una caratterizzazione comune per ogni gruppo dovrebbe essere presente in ogni gruppo che presentate all'interno della vostra campagna per distinguere dagli altri la cosa importante è che il cappello sia proprio l'unica caratteristica che costan distingue quel gruppo all'interno del mondo di gioco condiviso come abbiamo detto oramai più volte perfettamente normale che una determinata organizzazione enfatizzi più alcuni aspetti rispetto a degli altri ed è anche normale che alcune cose siano effettivamente più importanti all'interno di una specifica cultura gli abitanti di una grande città portuale che vedono il benessere economico della loro città legata al porto alle navi al commercio molto probabilmente all'interno della loro cultura cittadina daranno grande importanza al porto le navi al commercio questo di per sé non li rende un pianeta dei cappelli diventerebbero un pianeta dei cappelli nel caso in cui quando i personaggi e i giocatori vanno a visitare questa città gli abitanti alla città fossero descritti al master come soltanto marinai e mercanti che parlano solo e costantemente di navi porto al commercio questo potrebbe avere anche dei risvolti negativi sulla narrazione stessa se i giocatori in quel momento si rendono conto di essersi andati a infilare in un pianeta dei cappelli sapranno molto probabilmente cosa aspettarsi dalla linea narrativa che i loro personaggi stanno vivendo in quel momento se nella città portuale tutti sono marinai e mercanti e parlano di navi porto e commercio quasi sicuramente sta per arrivare una quest in cui ai personaggi giocanti verrà chiesto di andare al porto trovare una nave e commerciare qualcosa o varie combinazioni di queste tre i giocatori sanno già cosa devono aspettarsi quindi molto del pathos della tensione narrativa va fondamentalmente a perdersi ovviamente abusare di questo tipo di troppo porta molto velocemente a far crollare il principio di sospensione dell'incredulità anche di questo abbiamo già parlato il fatto però che il pianeta dei cappelli è un troppo comune e come tutti gli altri troppo non è qualcosa di intrinsecamente negativo dipende da quanto è oculato l'uso che se ne fa all'interno della campagna mettere in tavola un pianeta dei cappelli per esempio potrebbe servire al master per sottolineare un qualche tipo di elemento culturale che però in realtà non ha una vera rilevanza per quello che riguarda la storia più in generale se i personaggi per esempio dovrebbero avere a che fare con qualche gruppo minore per un piccolo arco all'interno di un arco più grande magari un paio di sessioni o anche un singolo scontro all'interno di una sessione che siano i pirati e gli asteroidi briganti nella foresta o la banda di ladri dello sprawl non sarebbe conveniente per il master creare un'intera narrativa dietro un gruppo che appare per un'ora di gioco all'interno di una sessione dagli una singola caratteristica rilevante è più che sufficiente potenzialmente si potrebbe scrivere un intero trattato socio economico sui motivi che portano un gruppo di persone ad associarsi in un'organizzazione criminale all'interno dei bassifondi della città e dare loro una cultura unitaria rituale iniziazione uno slang specifico di quella banda e articolare una storia recente di tutte le attività criminali che hanno compiuto nell'ultimo periodo ma se poi lo scopo di quei png è saltare fuori da un vicolo provare a rapinare i personaggi venire malmenati e scappare semplicemente non ha senso il master fa molto prima a limitarsi a dire a quelli sono i gangster della banda del teschio mi piace rapinare la gente la cresta da punk le magliette con sopra disegnato un teschio anche nel caso i personaggi vogliono avere un qualche tipo di interazione più profonda al di là di malmenare questi png comunque la loro motivazione all'interno della storia non sarebbe altra se non a loro gli piace rapinare la gente e le magliette con i teschi rendere un'organizzazione un pianeta dei cappelli può anche fare comodo al master quando il gruppo effettivamente è per qualche motivo rilevante nella storia ma semplicemente non c'è il tempo di presentarlo in una maniera tale da non renderlo macchiettistico e quindi per evitare di mettersi a fare incredibili spiegoni che allungherebbero ancora di più il tempo e abbasserebbero l'entusiasmo dei giocatori anche di questo abbiamo già parlato il master non fa altro che limitarsi a presentare il gruppo come ossessionato da una singola cosa o comunque caratterizzato da un singolo elemento e tutto quello che non è il cappello associato a quel gruppo semplicemente viene omesso in una campagna che abbia una durata prevista di mesi se non di anni un master potrebbe perdere settimane intere sessioni di gioco a presentare l'antica cultura dei nani nelle sue varie sfaccettature le origini dello stilità tra i nani e gli orchi e di come questo conflitto generazionale sia andato a influenzare entrambi le società con risvolti che si vedono ancora nella loro società moderna ma se la durata prevista della campagna è di due o tre sessioni o anche solo una singola one shot semplicemente non c'è il tempo per farlo a questo punto il master fa prima ad associare due cappelli uno ai nani uno agli orchi i nani sono strenui difensori gli orchi sono barbari razziatori fine poi la quest riguarderà in qualche modo i giocatori che difendono un villaggio nano all'attacco agli orchi potenzialmente il master potrebbe anche inizialmente presentare dei gruppi come pianeti dei cappelli e dare ognuno di loro un fortissimo cappello solo per poi smontare la cosa a posteriori nella quest dei personaggi che difendono il villaggio dei nani dall'attacco agli orchi inizialmente i nani e gli orchi sono presentati come strenui difensori e selvaggi razziatori ma se quella one shot dovesse protrarsi per più tempo o essere l'inizio di una campagna più lunga a quel punto il master potrebbe decostruire i cappelli che ha messo e magari espandere la cosa facendo vedere ai giocatori come no in realtà non è vero gli orchi non sono solo dei barbari razziatori hanno anche loro una cultura profonda e complessa ma sono presentati in quel modo come stereotipo culturale dei loro avversari e magari anche i nani non sono poi così strenui difensori ma all'interno della loro società esistono tutta una serie di norme e tabù sociali che fanno in modo che fondamentalmente chi tra i nani non sia uno strenuo difensore è socialmente escluso e quindi a un gruppo di estranei passa quasi come invisibile nella massa dei nani per bene una caratterizzazione del genere potrebbe servire anche come sfondo per un png o magari proprio per un personaggio giocante il personaggio è caratterizzato dal fatto che a lui è caduto il cappello cioè è un unicum all'interno è una società fortemente caratterizzata che per qualche motivo è in disaccordo con il resto della sua società potrebbe essere la motivazione per cui quel personaggio è deciso di lasciare il suo paese e andare all'avventura o potrebbe servire se all'interno della campagna c'è un qualche tipo di forte tematica un gruppo potrebbe avere il cappello relativo a un concetto di quella tematica ma avere al suo interno un personaggio che abbia il cappello opposto proprio per fare contrasto come dicevo il pianeta dei cappelli è un troppo come un altro non entra in secamente negativo ragionandoci un attimo ci sono modi per utilizzarlo in maniera molto positiva che accrescono la profondità della narrazione nonostante si tratti di presentare i gruppi sotto forma stereotipica ora comunque la parola sta a voi fatemi sapere se conoscevate questo trope se lo utilizzavate se lo utilizzavate ma non sapevate che fosse un trope che è la cosa che la maggior parte della gente mi dice di solito quando faccio questo tipo di video scrivete tutto nei commenti qui sotto scrivete anche se avete eventuali dubbi domande perplessità se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che è venuto a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate il tasto dalla campanella se non volete perdervi le notifiche io sono il master CAE noi ci vediamo nel prossimo video